quello che è stato nella fase centrale si delinea la gara, Eton viene avanti Trajkovic lo segue da vicino, il giapponese si è disunito nel terzo ultimo ostacolo poi si ritrova qui ha spinto però Eton, non ha tenuto molto neanche in uscita, beh ha fatto bene anche perché insomma non aveva modo di rilassarsi troppo sono 14 metri, 14,2 i metri che si separano all'ultimo ostacolo dal fotofinish